Piazzetta dell'Immacolata, una tradizione che si rinnova ad Aversa, quella della deposizione dei ceri, in ringraziamento dell'intervento miracoloso della Vergine per salvare la città dalla peste. E' un senso profondo di fiducia, un senso profondo di fiducia, un senso profondo nella vita di di fiducia, un senso profondo di fiducia. Piazzetta dell'Immacolata 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 Piazzetta dell'Immacolata